in diretta da studio special sulla musica del maestro francesco giuseppe lo seto la presentazione è di giulia regia e parte tecnica di antonio questo programma è a cura della redazione musicale di radio titolo in collaborazione con lo stesso autore e l'amore Perchè la notte non devo, mi sono innamorato, sempre a te raccontami, io che ho sempre, perché è stato l'amore, non ho mai riduto all'amore sublime, oggi mi sono innamorato, come fessi del mare. Perchè la notte non devo, mi sono innamorato, come fai a me, mi sono innamorato, come fai a me, mi sono innamorato, come fai a me. Perchè la notte non devo, mi sono innamorato, come fai a me, mi sono innamorato, come fai a me, mi sono innamorato, come fai a me. Perchè la notte non devo, mi sono innamorato, come fai a me, mi sono innamorato, come fai a me, mi sono innamorato, come fai a me. Perchè la notte non devo, mi sono innamorato, come fai a me, mi sono innamorato, come fai a me, mi sono innamorato, come fai a me. Gentili radioascoltatori, buon pomeriggio da Radiotitolo e da Giulia. Anche oggi state ascoltando Era Destino, sigla dello special dedicato alle musiche del maestro Francesco Giuseppe Loseto, compositore barese di grandi capacità creative. Come in tutti gli altri nostri appuntamenti, quest'oggi ascolteremo alcuni brani tratti dalla musica setta natività e più precisamente gli ultimi tre del lato B, insieme ad alcune delle tante massime del maestro Francesco Giuseppe Loseto. Le musiche di questo artista, come già avrete potuto constatare, sono molto dolci, espressivo e variegate. Questo perché esse rappresentano le varie sfaccettature della vita e dei sentimenti umani. Per questa stessa ragione ogni ascoltatore troverà in almeno una delle sue musiche quella nella quale si identificherà in quanto rivivrà il momento vissuto dall'artista. Per ottenere questi ottimi risultati, ogni lavoro del maestro Francesco Giuseppe Loseto è frutto di ricerca continua. Le sue composizioni, infatti, non sono semplicemente delle note casuali, scritte per formare una melodia, ma il risultato di una mescolanza di varie caratteristiche, sensibilità, distintività, creatività, uniti al ragionamento, a calcoli matematici e alla sua grande passione per la musica. Possiamo quindi dire che le musiche del maestro Francesco Giuseppe Loseto sono complete da ogni punto di vista. Ma terminiamo di ascoltare le dolci note di Era Destino. E cominciamo subito ad ascoltare il primo brano dal titolo Giochi di Prestigio, la cui nascita è dovuta alla ricerca di una seconda voce alla canzone Sola Soletta, che molti di voi già conoscono, soprattutto gli alunni del professor Loseto, per renderla polifonica. Ed ora, come al solito, un piccolo appunto didattico per i più competenti in materia. Il brano ha l'introduzione e gli elementi A e B ripetuti più volte. Mi raccomando, prendete nota all'uni del professor Loseto. Il sottotitolo dal aperto. Grazie a tutti. Una delle massime del maestro Loseto, poeta, se provi con amore non sarai bravissimo, ma te la caverai benissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.